La cosa che ci dà veramente tanti stimoli è il fatto che vogliono venire in tanti ad allenare questa grande piazza. Lavoro in corso e un casting allenatore da portare avanti con scelte da prendere in tempi relativamente brevi. Sono i primi passi di Danilo Pagna, ritorno sulla poltrona di direttore sportivo del Taranto dopo 11 anni. Il dirigente con esperienze a Vittoria, Matera, Lamezia, Terni, Brindisi e Viterbo ha le idee chiare sul profilo di chi dovrà guidare il rosso-blu nel prossimo campionato di Serie D. La caratteristica che dovrà avere l'allenatore è sicuramente di un allenatore che riesca a reggere le pressioni che una piazza come Taranto dà, che io poi definisco pressioni positive. C'è già un pocherissimo di candidati per la guida del Taranto 2020-2021. Se il sogno porta ad Antonio Calabro sotto contratto con la Viterbese in Cie e si registra anche un timido sondaggio per Vincenzo Feola, Cerignola quest'anno, a completare l'elenco ci sono Pino Rigoli, Arrende ed ex tra le altre di Sicula Leonzio, Catania e Juve Stavia, Nevi Orlandi, un passato tra Regina, Barlette e Vibonese, e soprattutto Massimo Costantino nell'ultima stagione al Messina in Serie D e con alle spalle campionati di Lega Pro con Vigor Lamezia, Vibonese e Torres. La speranza di Pagni è di replicare le soddisfazioni del 2008 con Gigi Blasi alla presidenza. Fu una stagione bellissima dove subendrai il 6 gennaio, da penultimo arriviamo Ottavi, poi costruimmo uno squadrone che riuscì a conquistare quasi 4.000 abbonati e poi col cambio di proprietà siamo andati via io, Blasi e il segretario Iodice. Chiarezza estrema, così come quando si tratta di individuare gli obiettivi del club nella D che verrà, tutto nel rispetto di una piazza blasonata e ambiziosa che nella sua storia ha 32 campionati di B e manca dal calcio pro da 8 anni. Dire che il Taranto non debba essere assoluta protagonista in un campionato così importante ma riduttivo per la piazza, io ho grande rispetto per tutte le squadre che parteciperanno e partecipano a questo campionato che tra l'altro è stato il mio trambolino di lancio e so che è difficilissimo vincerlo.